Adesso dobbiamo misurare quest'ultimo pezzo di maricoccio 300 voti! Bravissimi ragazzi, bravissimi tutti gli studenti, 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 tutti gli studenti straordinari! Per noi il record è raggiunto, 300 metri di maricoccio, dolcissimo, preparato, con grande cura, con grande venzione da questi straordinari studenti e sicuramente l'istituto è il trename di questi studenti! Perfetto! Ok, pazienza, non arrivano ancora tutti i ragazzi, lasciamo una... Perfetto! 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 Buongiorno a tutti gli studenti e tutta la scuola, insieme a tutti. Tutto e può fare tutto, in istituto che si propone degli obiettivi amigabili e suosi.